Signore LocoLokiss, ma tu ti sei accorto che in realtà non stai camminando sul vetro, ma su un blocco invisibile anche io, guarda, sembrava che noi stessimo camminando su dei blocchi finti. Eh, sentiamo chi sei, beh, è un'illusione. Ah, questo ragazzucca è completamente impazzito. Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video delle illusioni ottiche in compagnia dell'illusione ottica per eccellenza, LocoLokiss Mark. Mi sei sottato per caso? Allora, Loco no, su io non mi permetterei mai di insultarti, allora, abbiamo scelto 5 illusioni a testa per sorprendere le altre persone a casa, ma soprattutto per sorprenderci noi, quindi dovremmo decidere qual è la più bella tra le nostre, ma da casa con l'hashtag sono un campione nei commenti, perché se tutti quanti sono i campioni dovete decidere quale è l'illusione più bella e chi tra me è Loco ha scelto appunto la più bella, va bene Loco? Ovviamente Loco, cioè per farlo, io sento questa, guarda, 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 ti piace, si chiama Return. No, Loco, non ci casco, Loco, mi spiace, non ci casco, sceldimi, dai, parti tu con la tua, vediamo, vediamo con cosa vuoi startare, Loco, dimmi pure. Allora, inizio con questa. Dove mi porterai? Con Tunnel Vision. Vai, 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 va bene, va bene, va bene, allora, arrivo anche io, eh. Questa è una delle peggiori, te lo dico. Ah, questa è una delle peggiori, spiegamelo un pochino, Loco, vediamo. Ma praticamente, in qualunque posto tu ti muova, pensi che il centro è sempre quello. È vero, beh, in effetti è vero, eh, cari, sai che ti sono messo per dire che è carina, Loco, eh, carina. Quindi ovunque noi ci muoviamo, all'interno di questo cubo di vetro, il centro si muove con, beh, in effetti sai che sembra veramente che il centro di questa, no, ma che figata. Più, più la guardi, più sembra vera. E anche il dottore, Nico, cioè... Cosa mi hai chiamato, come? Scusa, non volevo insultarti, non volevo insultarti, perdonare. Loco! Non volevo insultarti, perdonare. Va bene, l'accetto, tranquillo. Comunque, tu sei in Adventure, perché in Adventure comunque si apprezza molto di più, perché non si vede più il... Certo, certo. Ok, molto, 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 molto carino. Complimenti, do un sette e mezzo per queste missioni, Loco. Come sette e mezzo? Sette e mezzo, anzi otto. Almeno dieci. No, è vabbè, Loco, abbiamo talmente tante di quelle cose da testare che guarda, eh. 8 su 10, 8 su 100? 8 su 10, ovviamente, 8 su 10. Allora, io... Ti porti, invece, io, Loco. Ti vado, ti vado, ti vado, vediamo dove ti posso portare. Ti porto in floating block, dai, parto anche io da quello che forse è il più bruttino. Allora, questi sono dei tasti di pianoforte, Loco, ti piacciono? Eh, ti piacciono? Non sono dei tasti di pianoforte, ma non è vero. Come no? Guarda, sono dei tasti di pianoforte, vedi? Sono dei blocchi con l'ombra sotto. Eh, guarda, se tu invece vai in down, sai che c'è il tastino con scritto down sotto? Cioè, dove c'è il ritorno a fianco c'è il tastino con scritto down, Loco. Ah, è interessante. Guarda, in realtà i blocchi sono sospesi in aria. Cioè, in realtà, loro non erano appoggiati direttamente, ma avevano uno strato sotto che ridava praticamente come se stessero volando. Ma in realtà dall'alto sembrano appoggiati. Eh, non sembrano appoggiati dall'alto. Sembrano volanti dall'alto. Ti hanno deluso, Loco, per caso? Sì, tantissimo, Marco. Quanto mi dai di voto? Eh, t'ho detto, ero più bruttino. No, come tre e mezzo! Ah, Loco! È delusamente deluso, Marco, sono serio. No, va bene, no, ci sto. L'ho detto, ragazzi, l'ho detto, è il più brutto. Ho scelto il più brutto, Loco, ho scelto il più brutto. Però adesso partirò bello pesante. Camerzo in dito, camerzo in dito. Facciamo così, ne scelgo io un altro per salvare la situazione. Va bene, va bene. Allora, vado in fake block. Ragazzi, guardate che figata. Questo sembra un blocco normale, ma in realtà non lo è, Loco. Se ti metti in una posizione particolare, sembra un blocco bianco appoggiato direttamente in questo angolino. Ma in realtà, guarda cosa c'è qua davanti, Loco. C'è un blocco bianco là in fondo. Allora, fammi selezionare. Da che parte bisogna guardarlo? Allora, aspetta, aspetta, perché bisogna, se ti sposti, testina. Allora, aspetta, bisogna mettersi per bene, non in questo modo qua, ma bisogna centrare esattamente il buchettino bianco. Ok, così, ragazzi, sembra un blocco completamente appoggiato a terra, ma in realtà è un blocco che si trova un po' per esterno. Riesci a trovare la posizione adatta, Loco? Ce la fai? Due. Vai, Loco, non è vero! È bellissimo! Non funziona, non funziona. Non riesco a farlo. Guarda, io oggi, ragazzi, non so cosa dire veramente se sei una capra. Ma non riesco a farlo, Marco! Sei una capra, dove sei, capra? Ok, ci ho fatta, ci ho fatta, ci ho fatta, è bello, molto bello. Grazie, è un dieci, è un dieci, dimmelo che è un dieci, dai. Sei in sette. Vai, sette. Vabbè, dai, ci sto, ci sto, dai. Portami tu dove vuoi portarmi, Loco. Vada, 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 non cincischi, non cincischi. Mi dica, mi dica. Vedi questo? Color Inversion. Ok, allora, vengo e ti seguo più volentieri. Ti spiego. Ok. Tu, correndo, allora, vedi i colori che ci sono a destra? Ok, sì. Che colori ci sono? Sono, allora, azzurro, giallo, senape e violaceo. Ok. E invece, a sinistra cosa che c'è? Allora, a sinistra abbiamo rosso, blu e verde, lime, posso anche dirti. Dimmi, dimmi, dimmi. E tu, con il dritto, in questa linea, i colori si invertiranno. Cioè, si spostano da un lato all'altro? Tu li vedrai invertiti. No, Loco, io li vedo... Ok, aspetta. In realtà, sai che ti dico, Loco, in realtà no. Cioè, non li vedo invertiti. Non te lo giuro. Ma si invertiti, sono tutti invertiti, Marco. No. Scusami. Continuo a correre, continuo a correre. Eh, sto continuando a correre. Ma un po' si invertono. Non sai che a me non mi si invertono, Loco. A sinistra c'è viola, ciano e giallo polenta. Non è vero. Adesso c'è blu e verde. Non è vero. Ma sì, Marco. Non è vero. Loco. Come fai non vederlo. Loco. Non mi piace questa illusione. Come fai non vederlo? Ma sono serio, Marco. Ma stai correndo. Mi è pure finita la speed, guarda. Guarda, io ti dico, per me questo è un due perché non ha funzionato. E in video... A me funziona. Allora, o c'ho gli occhi messi male, o ti dico che per me è così. E tu corri continuamente all'infinito. Ma anche con la spectator non mi funziona sta roba. No, non va. Ma sì, anche a me con la spectator funziona. Non mi funziona. I colori si invertono. Ti dico che non mi funziona. Ma fai ma sei stupido. Io ti spacco la capoccia in due, loco. Ma sei stupitissimo. Ti ho detto che non funziona. Torna qua, loco. Dai, ragazzo. Non funzionava. Allora, ragazzi, a voi. A voi funziona. Io voto dieci. Perché quello si invertono. Mi dite nei commenti a questo minutaggio se a voi ragazzi funzionava. A me, loco, non andava. Cosa devo dirti? Allora, andiamo col prossimo. Scelgo io il prossimo. Allora, vado con questo qui. The Ladder. Mi sei che ci sei? Ah, uso subito un bonus. Guarda che figata. Guarda che figata. Bello. Bello, bello, bello. C'è anche un punto differente per guardarla. Perché guarda. In realtà, la scala è completamente storta, loco. Cioè, dall'alto si vede come se fosse appoggiata. Infatti, tipo, dà l'idea che è appoggiata. Secondo me questo qui è proprio l'effetto più carino, sai? Cioè, guarda che in realtà è... Facciamo un bello sei e mezzo. Ma come fai a dire... No, ragazzi, adesso io... Allora, loco, eh. Adesso non puoi dirmi che è un sei e mezzo questo, eh. Un sei e mezzo? E' un sei e mezzo? Vabbè, io guarda veramente... Sono già qua che... Vai, vai, dimmi il tuo prossimo che guarda ti scipacca. Dynamic Surface. Questo preparati è bellissimo. Allora, allora, allora. Dynamic Surface. Ok, cosa succede? Uuuuuh. Allora. Carino, carino, carino. Ma non è questa grandissima roba che dico... Oh mio Dio, le scale sorte sono intere. Dopo che stavo rischiando di morire, loco, a me sta roba qua non è che mi faccia impazzire, eh. Anche adesso... Adesso neanche a me fa impazzire, fa impazzire. Impazzire, impazzire, sì, sì, sì. Prima, la prima volta che l'ho visto era bellissimo. Ha detto, wow, che figo! Adesso lo guardo e... Insomma... Cinque. E rientra. No, 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 cinque. Cinque. E rientra, 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 rientra. Qual era? Dynamic Surface. Loco, per me è un cinque, loco. Cioè, no, no, loco, è un cinque, loco. No, anzi, quattro e mezzo. Quattro e mezzo, loco, non ne voglio più sentire. Allora, vediamo cos'altro potrei farti vedere. Allora, qua abbiamo visto floating blocks. Water... Loco, ti faccio vedere quello che mi farà vincere. Waterfall. Quello che ti farà vincere? Sì, guardalo, 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 guardalo. Bello. Bello collegato, che fa l'acqua che va giù, che poi risale, che va giù, che poi risale. Bello, eh? Bellissimo. È un circuito di acqua questo qui, è famosissima come illusione ottica. Allora, io dico otto e mezzo. Otto e mezzo, loco? Beh, otto e mezzo, loco, è un bel voto, eh? È davvero molto bello, è bellissimo. Otto e mezzo è il voto più alto che abbiamo dato oggi alle illusioni ottiche, eh? Per quello? No, sono le due migliori. Ah, hai le due migliori? Ah, si può anche camminare, loco, eh? Quindi, se vuoi, ti fa vedere anche come è stato costruito. Perché in realtà, in realtà, quell'è, vedi qual è il trucco? In realtà, la colonna d'acqua non è appoggiata a quello dietro. Quindi, secondo me, questo fa innalzare tutto quanto a un bellissimo nove. Perché poi ti metti qua e capisci che in realtà era falso, loco, era falso. Sai che una volta che sai il trucco, poi non lo vedi più bene. È come i maghi, è come i maghi. Una volta che vedi il trucco dei maghi, dici, vabbè, ma anch'io so farlo. Vai, vai col prossimo, vai col prossimo, vai col prossimo. Dimmi pure, dimmi pure. Allora, questo non è il migliore, però è molto carino. È tipo come il tuo, come la tua cascata? È tipo il mio, in realtà, eh? È tipo come la tua cascata. Ah, allora, quindi si può camminare? Vediamo, si può osservare in qualche modo? Ehi, non è appoggiato? Non è appoggiato? Bello, bello. Io amo un sacco queste robe qua di illusioni ottiche, loco. Non so se tu sei fan, ma a me fanno... Tantissimo, tantissimo. Allora, sai che però, se ti metti qua, e adesso che sai il trucco, un po' vedi che non è appoggiato l'angolino là in fondo. Eh, te l'ho appena detto, te l'ho detto anche prima. Eh, ma guarda, eh, ma guarda che ti prendo a pugno, loco. Quindi se il tuo era un otto e mezzo, anche il mio un otto e mezzo. No, no, il mio era nove, questo è un otto, perché il mio era più... No, no, un otto e mezzo, un otto e mezzo. Allora, loco, nel mio c'era più ricerca! Cosa? A me, vediamo, perché io ho utilizzato tutte le mie cartucce più potenti. Quindi, siamo arrivati all'ultimo, eh. Quindi... Ma ce ne mancano due ancora. Ah, ce ne mancano due, ma a me mancano Chamber of Confusion e Sacred Cube. Dove sei andato? No, tranquillo, tranquillo, lo stavo controllando. Allora, entra nella Chamber of Confusion, ok? Entra pure, entra pure, entra pure. Ok, va bene, arrivo. Vieni, 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 vieni qua, vieni qua. Venga, ti sto aspettando, loco. Bravo! Carina, eh, carina. Questa è la Chamber of Confusion. È la zona della confusione. Chamber dovrebbe essere la gabbia della confusione. Ti piace, loco, eh? È davvero molto bello, sai? Che voto gli dai, loco, a questa bellissima zona? Sono tipo ipnotizzato. Sei ipnotizzato, loco, eh? Prova a girare anche tante volte il mouse. Eeeh, la gabbia della confusione. Che voto gli dai, loco, a la mia gabbia della confusione? Otto. Otto! Otto. Per ora demarca i voti più alti, comunque, eh. Possiamo dirlo. Ma non è vero, ma quando mai? Tanto per un voto ti ho dato. Eh, eh, loco, loco. Tocca a te, vai. Allora. Allora, è il prossimo. Vai. È il tuo ultimo, no? E sono due. No, ce ne sono ancora due io. Ok, vai, 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 vai. Dimmi. Expansion. Se tu non lo capisci, è da nove e mezzo questo. Ah, che fa la... Fa... È tipo un cuscino. Eh, vabbè, ma che figo. Esatto. Eh, questo è tosto, eh. Dovevo sapere la realtà. Questo, dimmi, dimmi. Allora, aspetta, prova a capire com'è la realtà. Eh, la realtà, secondo me, sono tanti blocchi tutti su un piano che poi diventano sempre più strettini. È tutto piatto. È tutto piatto? È tutto piatto. Cioè, scusami, adesso mi metto in spettatore e vado giù. E tu mi stai dicendo che è tutto quanto su un piano solo? Tutto su un piano solo. No! No, no, loco, ti prego. Mettiti in spettatore qua da me. Vieni, perché ti faccio vedere una figata atomica. Mettiti in spettatore. Dove sono io? Tipati proprio, tipati proprio. Allora, ti vedo, ok? Poi, piano piano, sali, ma continua a inquadrarlo. Sembra che proprio inizia a tondeggiare davanti a te. Visto? Visto. No, vabbè, ma... Nove e mezzo. Nove e mezzo. Ammetto, ragazzi, nove e mezzo pieno, per loco. Nove e mezzo. No, aiuto! È cazzo, no. Ok. Il mio cucino ti prende. Eccomi, eccomi. Posso dire, questo qua è nove. Nove, nove. E mezzo? Nove e mezzo hai detto. Nove, nove. Hai detto nove e mezzo. No, non ho detto nove e mezzo. Nove! Hai detto! Nove! Nove! Allora, il mio ultimo, il mio ultimo, il mio ultimo, il mio ultimo è... Checkered Cube. Allora, questo è particolare, loco, eh? Perché devi controllare il cubo. Che cavolo. Devi stare le scale, guarda, il cubo. E è un cubo, ma fatto di strati. Eh? Eh? Guarda che figo, eh? Eh? Bello, eh? Bello, 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 bello. È un cubo fatto di tappeti. No, ma il fatto è che se tu poi sali sopra, dall'alto in realtà è un cubo in tutti gli effetti, loco. Cioè, non è un cubo fatto di tappeti più sali in alto. Cioè, quando tu arrivi al massimo in alto, è un cubo in pieno. Fatto che i blocchi ver bene. Eh? Abbastanza interessante. Non tantissimo, sai. Come no, loco? Cioè, se tu guardi poi dal centro non capisci più. Non c'è quel wow. Non c'è quel wow. È bello, però non è un wow. Altro che wow. Facciamo un 6-. Ma come 6-? Come fai a dirmi che è un 6-, loco? Loco, ti sto guardando. E' pronto l'ultimo, Marco? Vai, sono pronto al tuo ultimo. Vediamo cosa mi combini. Vediamo, vediamo, vediamo. Hearing Illusion. Hearing Illusion. Allora, che è sta roba? Che cavolo è, loco, sta roba? Le linee rosse, come le vedi? Rosse. Grazie, come sono? Dritte. Come dritte? Non sono molto tondeggianti. Sembrano un po' tondeggianti, ma non troppo. Sono curve. Mm, sì. Sembrano curve, ma sono dritte. No, no. Non mi emoziona, loco. Sì, ma come no? Non mi emoziona. Cioè, queste linee sembrano tutte curve. Non mi emoziona. Ma in realtà sono dritte. Non mi stai emozionando, loco. Lo stai facendo apposta. Ragazzi, 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 questo è un 3. Io vi saluto qua. Ditemi qua sotto nei commenti. Che bucciardo. Io adesso tossisco per salutarti, anzi, sentimi, che ritossisco. Noi, campioni, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, spero che questo qua vi sia piaciuto. Ha vinto palesemente The Mark, ha scelto i bisognati più belle. Ma voi dovete decidere, costruite i commenti con l'hashtag. Sono un campione. Qual è la vostra preferita? Che loco vi saluterà nel suo prossimo video. Da Mark è tutto. Noi ci salutiamo qua. Mi raccomando, scegliete uno dei due video qua davanti. Ciao, campioni!